Dal Vangelo secondo Giovanni Dal Vangelo secondo Gesù sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura disse, ho sete. Vi era lì un vaso pieno d'aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima ad una canna e gliela costarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto Gesù disse, è compiuto. Echinato e il capo consegnò lo spirito. Era il giorno della parasceve e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che già era morto, non gli spezzarono le gambe. Ma uno dei soldati con una lancia gli copì il fianco e subito ne uscì sangue ed acqua. Inizia oggi il tempo ordinario, o meglio riprende, l'avevamo interrotto prima del tempo di Quaresima, e dopo la solennità di Pentecoste riprende questo cammino contrassegnato dal colore verde. È il tempo della Chiesa, il tempo in cui siamo chiamati a camminare dietro a Gesù da discepoli, ascoltare la sua parola, farla nostra, metterla in pratica attraverso la nostra vita. Ed è proprio per quello che oggi, primo giorno dopo Pentecoste, la Chiesa ci fa celebrare la memoria della Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa. Una memoria istituita da poco per volontà del Santo Padre Papa Francesco, quasi a farci capire che il dono dello Spirito Santo ci porta ad essere Chiesa. E se vuoi essere Chiesa non c'è altra strada se non quella da imparare da Maria. Ed è per quello che la liturgia ci pone questo prano evangelico che ci riporta sotto la croce. Nel momento in cui Gesù affida a Giovanni la madre e a Maria il discepolo amato. E c'è un'espressione che siamo chiamati a fare nostra oggi. Da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Accogliere con sé Maria. Prendere con noi stessi Maria. Accogliere nella nostra vita la presenza premurosa e materna di Maria. Colei che è grande perché prima di tutto è stata discepola. Colei che ad un certo punto ha scelto di fidarsi del Signore, di accogliere la Sua parola, di dire il suo sì. A quello che in quel momento le veniva proposto anche se non era pienamente compreso dalla sua mente e dal suo cuore. Maria, madre della Chiesa, ci insegna proprio questa virtù grande della sequela Gesù. Di metterci dietro al Maestro, di ascoltare la sua voce, di custodirla nel cuore e poi a partire da questa voce custodita far emergere una memoria piena, grata, di chi cioè è contento di seguire il Maestro. Non da battitore libero, ma nella Chiesa, nella comunità dei credenti, in quella comunità che ha accolto il dono dello Spirito Santo proprio perché era unita, era insieme. L'abbiamo sentito nel Vangelo di ieri e nella prima lettura. I discepoli erano insieme con Maria nel Cenacolo in attesa del dono dello Spirito Santo e questo dono è arrivato e li ha trasformati proprio perché vivevano nella comunione. Nella comunione della loro diversità, della loro unicità, del loro essere totalmente diversi l'uno dall'altro. Ma questo nella Chiesa emerge in maniera forte. Non siamo chiamati ad essere tutti uguali, ma a mettere la nostra diversità a servizio della comunione. Allora invochiamo l'intercessione di Maria perché lei possa custodire sempre la comunione nella Chiesa e insegnare ad ognuno di noi come custodire e costruire ogni giorno questo grande dono, il dono della comunione, la comunione che significa ritenerla più importante dell'aver ragione, più importante del proprio interesse, più importante delle proprie motivazioni. La comunione soprattutto. Padre Santo fa che tutti siano uno. E allora ci affidiamo a Maria perché lei ci insegni questa strada bella della comunione.